Gabriele Agostinelli, attaccante del Madonna del Latte, è arrivato un pareggio contro lo Sporting Pila, un risultato che sulla carta sicuramente non vi soddisfa in pieno. Sì, perché loro si sono presentati, che sono venuti giù essendo un po' il fanalino di coda, però diciamo che la squadra vista ieri allo stadio della Madonna del Latte non è poi una squadra rendevole, ma è stata una squadra che se l'è giocata. Noi abbiamo iniziato bene, fatto un primo tempo dominato e purtroppo abbiamo preso un gol, anche condizionato un po' dal campo, che era in condizioni molto appesantite dalla pioggia. Dopo recuperare non è mai facile, si sono difesi bene, poi è arrivato il pareggio e diciamo che è un punto che prendiamo alla fine volentieri. Un punto nelle ultime tre giornate, un momento di frenata, possiamo dire, dopo invece una serie positiva. Sì, infatti venivamo da tre o quattro vittorie consecutive, mi sembro, ora se non vado errato, è un punto che diciamo che questa è un po' una frenata, sì, perché sono tre sconfitte consecutive. Però chi ci ha visto, insomma, ha visto che con il Valfabbrica, nonostante era una squadra, diciamo, la corrazzata dovrebbe essere di questo campionato, abbiamo espresso un buon gioco e alla fine, diciamo, che se le cose fossero andate un po' meglio negli episodi, potevamo anche fare un risultato diverso. Con il San Secondo è stata un po' invece una frenata un pochino più decisa, perché sinceramente non abbiamo affrontato bene la gara, è una sconfitta che riteniamo essere meritata e ecco poi di domenica, invece, ho già, diciamo, detto prima, è un pareggio che viene, diciamo, preso per come è venuto. Domenica prossima, gara molto impegnativa contro Ibis e Casarigliavolo in trasferta, servirà però il riscatto da parte vostra? Sì, anche perché loro vengono da un risultato importantissimo, hanno vinto domenica e saranno molto carichi, però ce la giochiamo, anche perché abbiamo visto che questo campionato non ci sono né squadre ammazza campionato né squadre materasso. L'obiettivo restano i play-off? L'obiettivo, sì, restano i play-off, ma non ci limitiamo a niente, né al primo posto né a lottare per i play-out, perché ogni partita, come ho detto prima, deve essere una battaglia e dobbiamo essere in grado di vincerla questa battaglia. Grazie. Grazie.